te lo ricordi questo qua che era un rompivalle? cos'è? mamma mia si vabbè aveva pure sti colpi da teletrasporto nooo pure al volo mi prende ma non è possibile ma vaffanculo l'odio questo personaggio no Grazie a tutti. Se mi sono ricordato la comba. Dai! Ah! Questa è l'altra patalide. Fatality. 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 Oh Ma perché sta laggando? Ahia Sto cagata Sto cagata Sto cagata No No ha vinto la sua super Come cazzo è possibile? Ma va Ma assurdo Sì proprio così La crisi è più shadow mortal combat Vediamo le statistiche Eravamo pari Oh Se laggasse meno Aia Ok mi spacca Mi spacca Guarda 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 Che cazzo di colpo Guarda 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 Ma sto cazzo È lisciato Sì vabbè Sì vabbè Oh t'ho fottuto però Qua ci giochiamo tutto No 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 Porca troria Ho perso Ce la siamo giocati Fa il Pensavo facessi al mercy Geras Granulam picazzo No 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 No